Che fine ha fatto Bray Wyatt? Beh è una delle domande più ricorrenti tra quelle che mi proponete durante le tante live che vi offro principalmente su Twitch ma anche su YouTube e purtroppo devo alzare le mani. Non lo so ma come vedete, questo è un pezzo uscito poco fa, anche i siti americani non sanno che pesci prendere. Brancola non è il buio, non c'è la luce dell'informazione che li illumina perché qualche settimana prima di Wrestlemania Bray Wyatt è letteralmente scomparso. Tutto ciò che lo riguardava è uscito dalla programmazione televisiva WWE. Lui, gli allegri amici della casetta delle lucciole, Alexa Bliss che comunque era coinvolta indirettamente alle vicende di Wyatt, anche l'Audi e non si è fatto più riferimento a Wyatt, bocche cucite, come se niente fosse successo e la rivalità con Bobby Lashley? Giacciata, fuoco spento, secchio, d'acqua e bocca con la zip, con la cerniera. Tant'è che alla fine l'onnipotente allo showcase degli immortali, di Wrestlemania, non ha neanche combattuto. Si è presentato semplicemente col trofeo della Battle Royale alla memoria di Andre the Giant, vinto però a SmackDown. Ora, storicamente, quindi qui procediamo con l'intuito, quando cala un silenzio di questa tipologia, quando non vola una mosca, su un personaggio così importante, ve l'ho già detto, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Perché è strano che nemmeno un collega si lasci scappare un'informazione concreta, una parola, un mezzo indizio. Quindi ragionevolmente c'è sotto qualcosa che riguarda la vita di Bray Wyatt, la sua sensibilità, la sua privacy, qualcosa che viene difeso strenuamente da questa palizzata impenetrabile. Non sappiamo cos'è, possiamo fare mille pensieri, l'abbiamo detto, depressione, ipersensibilità, magari anche qualche infortunio acciacco fisico, che però, se fosse questa l'ipotesi giusta, beh, non gli avrebbero impedito di essere presente nelle arene, di lavorare, di minacciare Lashley, di scatenargli addosso eventualmente dei suoi alleati o dei suoi sottoposti. Quindi, come vedete, ho poco da dirvi se non il riportarvi quello che passa il convento, che è pane raffermo e una minestrina che so che fatica ad andare giù, però a volte in tavola si porta quello che si ha.